Tu sei Giuda, il discepolo di Gesù, o mi sbaglio? No, sacerdote, dite il vero, sono proprio io. Ascolta, saremo diretti. Il tuo maestro va fermato e subito, perché i suoi insegnamenti falsi creano scompiglio nel popolo. Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Con un bacio, tu gli ti radisci. Una sola domanda, scegliete Gesù il Nazareno, o barabba l'omicida. E così sia, io non ne voglio sapere di questa scelta. È stata una scelta vostra, del vostro popolo. Per quanto mi riguarda, è libero. Mettilo a morte! Procifigio! Procifigio! Donne di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete per i vostri figli. Allora, cosa vogliono queste donne? Soldati, allontanate queste donne, forza! E tu, vanno stare. Avanti! Fuori! Via! Porta, desci il cammino! Avanti! Andiamo! Fortio! 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 Madre! Ecco tuo figlio! Figlio! Ecco tua madre! Madre! Cosete! Eroìì! Eroììì! Eroììì! Leva Sabatari Costui era veramente figlio di Dio. Costui era veramente figlio di Dio.